Mostra incontro. Guglielmo Achille Cavellini ed il suo ambasciatore Fausto Paci, il 29 ottobre 1988 alla Galleria Rosati di Ascoli Piceno. La base musicale è titolata Music for Cavellini per sax baritono solo ed è stata scritta ed eseguita dal professor Massimo Mazzoni del centro cavelliniano di Porto San Giorgio il 26 agosto 1987. La base musicale è stata scritta ed eseguita dal professor Massimo Mazzoni di Porto San Giorgio e la base musicale è stata scritta ed eseguita dal professor Massimo Mazzoni di Porto San Giorgio di Porto San Giorgio il 26 agosto Grazie. 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 Grazie.